Allievi del 236esimo corso, lo giurate voi? Il potente grido di lo giuro è risuonato sabato scorso in piazza Plebiscito a Napoli dai 57 allievi del primo anno della scuola militare Nunziatella dell'esercito italiano. Una cerimonia emozionante alla presenza tra gli altri del ministro della difesa Guido Crosetto, del sindaco della città partenopea Gaetano Manfredi e del prefetto di Napoli Claudio Palomba. Il giuramento solenne di fronte alla bandiera d'istituto, suggellato con la lettura della tradizionale formula pronunciata dal comandante della scuola, ha sancito l'ingresso a pieno titolo dei 57 allievi, 43 uomini e 14 donne, nei ranghi di uno degli istituti scolastici più prestigiosi dell'esercito. Tra le fila dei giovani militari, anche un giovane cilentano. Si tratta di Nicolò Peluso di Montano Antilia, il cui sindaco Luciano Trivelli, presente alla cerimonia di giuramento, ha affidato a Facebook parole di orgoglio nei confronti del suo concittadino, descritto come un ragazzo educatissimo, umile e dedito allo studio.